Ben trovati, sono Marco Marinacci, docente di Unitre Edu del corso di Storia dell'Arte Contemporanea all'interno del Dipartimento di Discipline Artistiche. Il corso è erogato in modalità online live, il che consente una frizione attiva da parte del discente e un'interazione con il docente. Il corso è dalle 16.30 alle 17.30 con cadenza settimanale ogni venerdì. Gli argomenti trattati dalla disciplina dell'arte contemporanea sono innanzitutto un posizionamento, una rilettura nei vari movimenti delle correnti artistiche e degli artisti che hanno consolidato la nostra esperienza visiva, contemporanea, su cui effettivamente oltre il campo dell'estetica, oltre il campo dello stile, oltre il campo del bello, così più ampiamente considerato, si struttura il nostro saper guardare, la nostra capacità di vedere ciò che spesso non è neanche considerato arte, ovvero i messaggi subliminali, ovvero il modo di percepire il contemporaneo, ovvero quell'immagine immobile chiamata anche cinema, ovvero tutte le informazioni visive che vengono dal mondo e che l'arte contemporanea ci ha insegnato a leggere, come dire, e a interpretare. La storia, ecco questo addendo diciamo di carattere disciplinare, ci permette semplicemente di segnalare i vari passaggi, gli anelli diciamo con cui noi abbiamo fatto nostra questa consapevolezza e la nostra civiltà, la civiltà dell'immagine si è consolidata e si è andata costituendo. Ne ringraziare per l'attenzione, segnalo che il corso è consultabile anche accedendo al sito www.unitreedu.com